La rete offre un numero infinito di opportunità dall'ordinare la spesa online all'attivare contratti di fornitura di servizi, prenotare visite mediche e fare acquisti di ogni tipo. Tutte operazioni che è possibile effettuare da computer o da smartphone con pochi clic ed è proprio per l'esponenziale diffusione del commercio online che per federe consumatori è necessario mettere in atto una regolamentazione precisa e stringente nel settore per garantire ai consumatori adeguate tutele. Sono in crescita esponenziale infatti le truffe che sfruttano proprio la libertà data da internet. Una delle ultime nell'ordine di tempo ha colpito alcuni giovani modenesi che su un portale web hanno versato una caparra di 500 euro per l'affitto di una baita sul lago di Carezza a Bolzano. Quando si presentano però sul lago scoprono che la baita non esiste o al meglio la baita esiste ma non esiste l'appartamento in affitto. Come è potuto succedere? Non c'è nessuna selezione all'ingresso in portali come subito.it. Non c'è nessun controllo, soprattutto non c'è nessuna garanzia rispetto a possibili truffe. Bisogna alzare l'attenzione, le persone che acquistano turismo su queste pagine debbono sapere che non avranno un livello di tutela altro che quello dato dalle forze dell'ordine e quindi possibilmente devono avvicinarci con grande prudenza a questo mondo.